La Juve è tra le stelle d'Europa, con il nostro tifo facciamola diventare la regina. Seguila con lo Juventus Official Fan Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino, Juventus Zenit San Pietroburgo, Champions League fase a Gironi, quarta giornata, martedì 2 novembre ore 21. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Ci trovi a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti Antonio 348 80 8 8 8 0 3 Cristian 349 68 000 66 E grida con noi Forza Juve fino alla fine! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.